Grazie a tutti. Siamo avanti, Glisson come direbbe Vittorio Resica, siamo qui in compagnia di Carlo Panarello e Luciano Poitano, due grandissimi amici, uno dei due attori che vedremo, spero presto, 13 marzo, ti stiamo aspettando. Allora ragazzi che cosa hai pensato di questa commedia? È sicuramente molto bella, i ragazzi sono molto bravi ed è interessante il tema che trattano. Molto bravi, l'attore principale sa interpretare benissimo la parte e tutti hanno un'armonia attorno che è un qualcosa di eccezionale. Poi la regia di Gianni Parisi è già una garanzia voglio dire. Infatti, questo ne parlavamo prima anche con lui giù negli spogliatori, è bello che una persona professionista con 30 anni di cadere alle spalle dedichi il tempo libero e il suo tempo a un gruppo di ragazzi che veramente si rivelano poi, se la tengono molto il gioco, non si vede il distacco. Certo, Gianni è un grandissimo, però sono molto bravi. Voi che cosa hai pensato di questi ragazzi, come stanno andando in questa compagnia? Sì, è vero, sono bravissimi e effettivamente lascio sperare che la commedia sia veramente bella fino alla fine. Come dicevo prima, sono molto affiatati e non si nota chi è più bravo e chi è meno bravo. Sono tutti bravi, stanno interpretando alla grande la commedia e ci faranno divertire ancora nel secondo atto. E noi ce lo auguriamo di che ancora. Intanto vi ricordo ai nostri amici che sia il cameraman che questo signore è qui, il 13 marzo, a quanto ho capito, saranno in scena. Sempre qui, la commedia? Miseria e nobiltà. Quindi voglio dire, e dicci pure anche il vostro ruolo, voglio dire. Il mio ruolo è quello di Gaetano Semmolone nella commedia Miseria e nobiltà e quello del cameraman. Facciamo nome e cognome del cameraman. Michele Falco, il signor Bebè. Grandioso, immagino già che si presenta con l'anello bellissimo. Già c'è l'anello, già c'è. Allora ringraziamo ancora i nostri amici Carlo e Lucia, vi auguriamo una buona serata e un buon divertimento. Ciao, ciao da l'aburio. Grazie. 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 Grazie a tutti